Una ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia è stata firmata dalla sindaco di Gera, Domenico Messinese. Vietati volantinaggi da fissioni che deturpano il decoro urbano. Debliant ed altro materiale informativo promozionale potranno essere distribuiti solo nelle cassette della posta o consegnati direttamente a mano nelle abitazioni private, nei locali pubblici o nelle attività commerciali. E' quanto stabilisce, come dicevamo, l'ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia firmata dal primo cittadino giarese. Il volantinaggio non sarà messo ancora meno tra gli automobilisti in prossimità ed in corrispondenza degli incroci. L'ordinanza infatti, oltre alla tutela del decoro, è finalizzata anche al mantenimento della sicurezza urbana. Per quanto riguarda invece le affissioni, saranno sanzionati i manifesti apposti sui pari dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale su alberi e altri posti o strutture non autorizzate. Le multe saranno elevate sia alle aziende commissionarie che al personale impiegato per la pubblicità. Per le prime sono previste sanzioni da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello Stato e dei luoghi, mentre chi distribuisce volantini andrà incontro a multe dalle 10 alle 60 euro.